Buongiorno a tutti, è Giampaolo Pasolini parlando di Pasolini Auto in Brescia. Qui c'è un ottimo Jaguar XK120 OTS, prima registrazione nel anno 1952 e 180hp. L'auto ha stato ristorato completamente, è libero di acido e è bianco, con un po' di bianco verde e bianco dentro. Vi mostro il bianco dentro del auto, è perfetto, anche il mochette è perfetto. I want you to hear the engine switch it on. Perfect, first touch, the engine switch on, I finish to show you the body of the car. It's perfect in each particula. I wait for you in my showroom Pasolini Auto, nearby Brescia. You can call me on my mobile telephone for any information. The number is 0039 347 4342 272. I wait for you, bye bye. I wait for you, bye bye. To you, bye bye. I've got to have a name. This is being set of three.